Le cosiddette riforme di Matteo Renzi sono al contempo ridicole e pericolose. Ridicole perché non risolvono alcuna priorità per gli italiani, pericolose perché in compenso tolgono agli italiani il diritto di scegliersi i propri rappresentanti e abolire la democrazia non è una bella riforma. Le parliamo da Treio dal 25 al 27 settembre a Roma, Officine e Farneto, una grande manifestazione alla quale sono invitati tutti quelli che Renzi lo vorrebbero mandare a casa.